Gestivano lo spaccio di droga in diversi comuni del Barese, un business che non si è mai fermato neanche durante il lockdown e che anzi ha incrementato gli introiti proprio nei primi sei mesi del 2020. E' quanto hanno scoperto i carabinieri nel corso di un'indagine coordinata dalla Procura di Bari, conclusasi questa mattina con l'arresto di 19 persone. 9 sono finite in carcere, 9 ai domiciliari, mentre per un altro soggetto è stato disposto il divieto di dimora. L'accusa per tutti a vario titolo è di detenzioni e fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'attività investigativa è partita dalle due figure cardine dell'organizzazione, due fratelli di Palo del Cole di 27 e 29 anni che avevano messo su un lucroso traffico di droga nei comuni limitrofi ma che toccava anche alcune piazze più lontane come Bisceglie, Trani, Corato e Ruvo di Puglia. Numerosissimi gli episodi di vendita di stupefacenti documentati dei militari durante le indagini con decine di persone che ogni giorno raggiungevano Palo del Colle per acquistare ogni tipo di droga. Lo spaccio avveniva in prossimità dei posti più frequentati della città come la stazione ferroviaria, la villa comunale o vicino agli esercizi commerciali. 15 le persone arrestate in flagranza nel corso delle indagini mentre altre 5 sono state denunciate in stato di libertà per detenzione e spaccio di stupefacenti. L'attività investigativa ha consentito di documentare in soli tre mesi quasi 7000 accessioni di sostanze illecite a favore di circa 150 clienti mentre sono stati sequestrati quasi 2 kg di eroina, 1,5 kg di marijuana e oltre 2000 euro in contanti.